Bene, cari ragazzi, Salvanelli, siete pronti? Questo parco è aperto da 11 anni, il festival invece è il più famoso d'Italia e uno dei più famosi del mondo, ha ben 63 anni. A presiederlo c'è Roberto De Martin che ci dà un saluto breve e inaugura dal via alla undicensima edizione del Parco dei Mestieri. Stamattina mentre arrivavo dall'Alto Adige a una fermata del bus ho visto tutti i Salvanelli che aspettavano evidentemente la corriera che le avrebbe portati qui ed è stato un tocco di colore bellissimo, è stato una specie di benvenuto che ho preso direi non solo a livello personale ma un benvenuto al festival. Io credo che il Parco dei Mestieri è e rimarrà, ma lo dirà meglio di me Carlo Ancona, un gioiellino nell'ambito anche di questa edizione del Film Festival perché voi siete quelli che devono crescere. Il commento quest'anno e il titolo direi della riflessione che ho fatto per il catalogo del Trento Film Festival è Miglioramento continuo, guardando a voi non ci si può fermare, bisogna veramente cercare di migliorare sempre. Quest'anno il manifesto è di un artista del Portogallo, da primo acchitto uno lo prende per un bosco con sopra una cima e sotto addirittura l'ipogeo. In effetti se uno ha la pazienza di guardare, al di là del bosco trova i mestieri che nel bosco si svolgono, per cui in un certo senso il manifesto di quest'anno è anche un po' l'esaltazione del Parco dei Mestieri. Grazie. Grazie Presidente De Martín. Ciao, ciao, buon rientro.